Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video vi faccio vedere come il socio ha realizzato questo reggimentola per il mio laboratorio. Chi mi segue sui social sicuramente avrà visto che un paio di settimane fa ho comprato una verga di ferro e l'avevo comprata proprio per questo motivo qua. Avevo bisogno di fare dei reggimentola però come li avevo fatti l'ultima volta di legno mi sembravano poco resistenti. Allora ho pensato, ma siccome ho il socio che è bravo con la saldatrice e io invece sono un cane con la saldatrice, quasi quasi compro sta verga di ferro e lo facciamo insieme, il lavoretto, e devo dire che è venuto veramente bene. Quindi se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità del canale mi raccomando seguimi sui social, su Facebook e su Instagram. Iscriviti al canale, commenta e un pollice all'in su fa sempre piacere. Se metti quello all'in giù invece mi raccomando scrivimi nei commenti come migliorare. Esiste anche la possibilità di supportare il canale. Infatti puoi fare delle piccole donazioni su Paypal oppure se hai bisogno di acquistare qualcosa su Amazon puoi farlo passando per il mio link. In questo modo tempi di spedizione e costo dell'oggetto che comprerai sarà lo stesso però il mio canale riceverà una piccola commissione grazie al tuo gesto. Come vedrete nei prossimi video ho progettato questi reggimentola in modo da poter predisporre anche l'impianto di aspirazione. Abbiamo iniziato a farlo nell'ultimo video, stiamo continuando con questo video ma lo finiremo in futuro. Guardate il video fino alla fine perché poi vedrete come è venuto il lavoro finito all'interno del mio laboratorio. Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.